Oggi vorrei uscire un po' dal seminato e parlare della bomba che Elon Musk e Tesla hanno lanciato al loro AI Day. Sto parlando infatti del Teslabot. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlare del Teslabot o del Optimus Subprime, come è stato definito proprio da Elon Musk. Ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che farebbe vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Dunque, il Teslabot. Di cosa stiamo parlando esattamente? Questo robot umanoide presentato al AI Day da Tesla, chiaramente, mi ha fatto sorgere diverse domande. Ma andiamo con ordine. La prima domanda che mi sorge è come mai Tesla, fra tutte le compagnie robotiche sul pianeta, ha deciso di creare un robot umanoide. E la seconda è perché è proprio un robot umanoide, simile a un umano? E sono domande molto particolari ma che, analizzando l'azienda, si vede che hanno una spiegazione pressoché chiara. Partiamo dunque con la prima domanda, ovvero il perché Tesla? Ormai da diversi anni Tesla non è più solamente una casa automobilistica. E per moltissime persone questo significava solamente che producevano pannelli solari o impianti di storage di energia per le case e per le aziende. Ma quello che stanno facendo in realtà dietro le quinte è diventato palese grazie ai loro AI Day, o alle giornate, come dicevo prima, dedicate all'intelligenza artificiale, trasformando questa azienda in un'azienda software e robotica. Quello che è stato annunciato è che questo Tesla Bot, al posto degli organi interni che non gli servono ovviamente, monterà l'hardware necessario per il suo funzionamento, che coincidentalmente è lo stesso hardware necessario per la guida autonoma dei propri veicoli, ovvero il Full Self Driving, o FSD. Durante la presentazione alla AI Day, gli ingegneri che si dedicano alla guida autonoma di Tesla hanno infatti accennato al fatto che, mentre stanno cercando di risolvere questo problema, illimitate possibilità si aprono verso altri tipi di tecnologie grazie ai milioni di terabyte di dati che verranno poi dati in pasto al loro super computer, soprannominato Dojo. Tesla infatti sta costruendo in casa i propri chip chiamati D1, da Dojo infatti, che renderanno la guida autonoma per i propri veicoli possibile, ma anche l'applicazione di questa intelligenza artificiale a molti altri aspetti della vita. Elon Musk infatti sul palco, all'inizio della presentazione del AI Day, aveva detto che Tesla è in pratica la più grande azienda robotica al mondo, dato che ogni singola auto che produce non è altro che un robot su ruote. E se ci pensate alla fine dei conti, l'idea non è neanche del tutto sbagliata. Tesla come azienda si può tranquillamente definire, oltre che car maker, ovviamente, anche un'azienda software. Infatti non definirei mai un'azienda come Volkswagen o BMW un'azienda software, ma lo farei tranquillamente con Tesla, grazie anche agli OTA, gli Over the Air Update, che sono sicuramente tra i migliori nel mercato. AI Day è stato creato con l'idea di reclutare le migliori menti al mondo nel campo dell'intelligenza artificiale. Pertanto ci sta a fare un po' gli esibizionisti. Dopotutto, la guida autonoma è solo un modo di applicare l'intelligenza artificiale nel mondo reale, come dicevo prima. Ed è proprio qui che passiamo al secondo punto, ovvero il perché un robot umanoide. Il fatto di essere umanoidi, secondo me, è un fattore che gli dà sicuramente più umanità verso le persone, perché avendo una forma simile alla loro, sono più inclini ad essere cordiali con lui, se vogliamo metterla in questo modo. Ma questo dovrebbe spingere Tesla ad avere un'intelligenza artificiale tale che vada a surclassare le ricerche tecnologiche e robotiche che sono state fatte da altre aziende in tutto il mondo. Una su tutte è sicuramente Boston Dynamics, che recentemente ha dimostrato le capacità del loro robot Atlas, facendogli fare del parkour o ballando. Ma anche Spot, che è il loro robot cane, noi lo definiamo cane perché si atteggia come tale, ma è solamente un veicolo su quattro gambe. Funziona semplicemente grazie a un telecomando o alla programmazione. Non funziona grazie all'intelligenza artificiale. Inoltre, quello di cui ho paura io è che funzioni come l'intelligenza artificiale delle auto, ovvero grazie ai casi che incontra per strada. Questo vorrebbe dire mettere questi robot per strada o nelle aziende a cercare ogni singolo evento che possa far imparare a questo robot come vivere quell'ambiente. La struttura umana non è la migliore, per svariati motivi. Banalmente non è fatta per trasportare grossi pesi per lunghi periodi, oppure un umano non si metterebbe mai in posizione deadlift o stacco per sollevare ogni singolo oggetto. Ma bando alle ciance, parliamo delle specifiche tecniche di questo robot, stavo per dire veicolo. Infatti mi sembra di essere nel 2300 a parlare di specifiche tecniche di robot umanoidi. Dunque, l'Optimus Subprime sarà alto ben 177 cm, peserà intorno ai 56 kg, riuscirà a portare in giro intorno ai 20 kg e a sollevare in deadlift o in stacco addirittura 68 kg, con una velocità massima di solamente 8 km orari. Queste specifiche sono state fatte appositamente per fare in modo che, nel caso l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento, tu possa scappare da essa o comunque sopraffarla in ogni modo. Speriamo non succeda, è chiaro? Cosa molto importante da ricordare è che queste specifiche tecniche sono state date da Tesla senza avere un vero e proprio prototipo funzionante. Pertanto prendiamole con le pinze. Il TeslaBot, secondo Elon Musk, potrebbe essere tranquillamente presentato come prototipo già dall'anno prossimo, ma non sono stati dati dei riferimenti di prezzo per questo robot. Ma in realtà non penso che davvero vogliano dare dei riferimenti, perché a tutt'oggi ho idea sia per lo più un concetto per dare la spinta giusta agli ingegneri per creare questo robot umanoide, per dare vita a questa intelligenza artificiale. Ed anche durante la sezione dedicata alle domande di questo evento è stata fatta una domanda appositamente riguardante la creazione in scala di questi veicoli, se vogliamo chiamarli così. E se avesse davvero senso, economicamente parlando, creare un robot che vada a togliere dei lavori che sono già pagati poco all'inizio, facendo intendere che questa persona non crede che le aziende vadano a prendere dei robot, che probabilmente non costeranno poco, specialmente all'inizio, piuttosto che impiegare magari una persona da pagare il minimo possibile. E la risposta di Elon Musk è stata semplicemente vedremo come andrà. Questo evento infatti, come dicevo prima, era fatto apposta per reclutare la gente, non era fatto in modo per vendere più azioni o incrementare il prezzo dei loro veicoli o presentare qualcosa in particolare. Quello che hanno fatto è semplicemente accendere una lampadina nelle menti delle persone che vogliono lavorare per Tesla e vogliono lavorare su questi problemi. Ma ora passiamo ai miei veri e propri dubbi. La forma umana non è la più perfetta che esiste al mondo. Infatti, come dicevo prima, è praticamente impossibile che una persona si metta davvero in posizione stacco per sollevare un peso. Ma è più probabile che si allunghi per cercare di sollevare quel suddetto peso, perché noi funzioniamo con un cervello. Ed è per questo che si utilizza un'intelligenza artificiale. Ma il database che dovrebbe servire per utilizzare questi robot nella vita reale sarebbe davvero incredibile. Infatti, banalmente, se io dovessi andare a chiedere a questo robot di andarmi a prendere sul tavolo un cellulare e magari ci fossero due cellulari, ne dico uno specifico, questo robot dovrebbe andare con le sue dita a prendere questo cellulare, quello corretto. E non è così facile, perché ogni anno esce un nuovo telefono e ogni anno, banalmente, deve essere aggiornato a tutto quello che viene fuori nel mondo della tecnologia o nel mondo del cibo o qualsiasi singola cosa. Secondo Elon Musk, infatti, questi veicoli dovrebbero essere utilizzati per dei lavori ripetitivi o pericolosi. La mia paura vera e propria è che questi robot verranno utilizzati per le guerre. Alla fine dei conti finisce sempre così, con le tecnologie così avanzate. Ma è anche per questo motivo che, secondo me, Elon Musk e Tesla hanno deciso di buttarsi verso questa tecnologia così avanzata così presto per fare in modo di non dare la possibilità a questi governi di avere dei robot soldati, che potrebbe essere decisamente deletereo per l'umanità. Ma il motivo principale per cui penso Elon Musk abbia cercato di buttarsi in questo mondo sia SpaceX. Seguitemi un attimo. Elon Musk ha diversi goal durante la sua vita. Una di queste è andare su Marte. La missione su Marte è sicuramente una delle più complesse che si potrà mai fare sulla Terra ed è sicuramente la missione più rischiosa nello spazio che esista. Quello che penso che vorrà fare Elon Musk con questi robot umanoidi è lanciarli nello spazio per iniziare a creare la colonia marziana. La finestra temporale che c'è per lanciare un razzo verso Marte è ogni due anni. Questo vorrebbe dire lanciare un razzo o diversi razzi su Marte con questi robot umanoidi che iniziano a costruire la colonia marziana ed in seguito, due anni dopo lanciare i primi umani che possono andare a completare questa colonia e iniziare già a vivere su questa colonia. Andando così ad espandere l'umanità e rendendola interplanetaria. Bene, questo era il mio pensiero su Optimus Subprime o TeslaBot come verrà chiamato probabilmente. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questo robot e se pensate che sia davvero così lontano non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!